Il secondo appuntamento con la Serie D femminile, in questo caso con l'Invicta Volleyball che sabato riceve la visita del WBC Calci al Paramaroncelli di Maria di Grosseto, ore 21, ne parliamo con il tecnico Stefano Spina, intanto facciamo un passo indietro, c'è stata questa sconfitta nella prima giornata del campionato, la Rosignano contro i Polli Serose, diciamo tutto sommato una sconfitta abbastanza morbida Stefano, mi sembra di aver capito. Sì, siamo fatti di benissimo, abbiamo fatto un primo set impeccabile, poi piano piano abbiamo un po' ceduto all'avversario che onestamente, almeno momentaneamente, è un po' più forte di noi, un po' più esperto, un po' più da categoria. Noi siamo una squadra giovane che, ecco, quando abbiamo fatto il nostro compito abbiamo fatto dei migliori dei modi, poi piano piano abbiamo ceduto, non ci dimentichiamo che avevamo Erika Fidanzi nel ruolo di palleggiatore, che non è il suo ruolo, ma si era già da farlo perché abbiamo tolta a Bosi in monocleosi, ora la stiamo recuperando, cerchiamo di piano piano anche da sabato di provare a metterla a campo. Senti, al di là della sconfitta e dei problemi anche di formazione, come hai visto la squadra? La squadra io l'ho vista benissimo, so che ha un gran margine di miglioramento, quella parte che abbiamo lasciato agli avversari me l'ho aspettato, so che ci devo lavorare, dovuto un po' alla gioventù, al pensare di avere già conquistato il risultato quando il risultato è tuttanto conquistato, e al capire che l'avversario di là è pronto a approfittare di ogni tuo momento debole. Quindi questo anno ci aiuta, sono anzi più contento di affrontare queste squadre che magari mi battono perché a me non mi aiuta a crescere. Per quanto riguarda invece la partita di sabato, hai visto qualcosa del calci? Ti sei reso conto che formazione scenderà in campo contro la tua? No, purtroppo so che il calcio è un'altra rivela squadra che hanno arrestito la squadra per vincere il campionato o per provarci, e quindi so che è forte ma non so altro perché purtroppo le dirette facciamo solo noi, e quindi reperire firmati sugli avversari diventa forte. Neanche facendo telefonate agli altri allenatori, non c'è questa collaborazione come nelle categorie superiori? No, io se trovo dirette è, ma non telefono. Quindi praticamente scenderai in campo un po' al buio, mi sembra di capire. Scendo in campo al buio, ma tanto quello che conta è la parte mia del campo, io conto di lavorare sulla mia e poi quando siamo lì vediamo gli avversari e cerchiamo di lavorarci contro. Cosa vuol dire giocare a Marina di Grosseto per voi? Per noi è importante, nel nostro campo sicuramente la nostra battuta assume tutta un'altra identità, noi in quel fondamentale siamo molto forti e quando la battuta funziona, così come a Rosignano, fino a quando ha funzionato abbiamo vinto a 12, il primo set, quindi contiamo su quello. Manca ancora qualche giorno prima di scendere in campo, a che punto è la formazione, se ci sono infortuni, malattie? Purtroppo abbiamo qualche cosa, ce l'abbiamo, Bertelli ieri ha accusato un problema a Linguine, la teniamo ferma oggi, Bronchini aveva un problema alla schiera, purtroppo siamo in una fase iniziale dove qualche acciacchetto ci sta, vediamo di recuperarli tutti però. Ecco, in questa fase iniziale del campionato non vi preoccupano le sconfitte? Mi sembra di capire se... No, no, non ci preoccupano, anzi, mi auguro di perdere o no, preferisco più perdere che vincere facile, perché vincere facile veramente mi fa uscire al campo con una sorta di insoddisfazione, perché non ho lavorato, invece quando perdi vuol dire che stai cercando i tuoi limiti e che i tuoi limiti non sono stati sufficienti per vincere la partita, quindi devi lavorare e sei stimolato a lavorare.